bella raga sono cucina, vedete il casino dietro ma volevo farvi un unboxing perché mi è arrivato questo pacco da amazon e lo aspettavo, penso di sapere che cosa c'è dentro ho fatto un ordine tutto dedicato praticamente alla skin care e al make up per quanto riguarda il make up ho ordinato una valigetta per contenere i trucchi dato che praticamente sono qua a sparti per la cucina mentre invece per quanto riguarda la skin care ho ordinato dei prodotti per la skin care coreana che ho visto sul canale di Saidori vi metto direttamente il link qua sotto perché io sono innamorata del suo canale Silvia ti faccio una dichiarazione d'amore, tanto oramai le faccio sempre sono innamorata del tuo canale perché sei bravissima e insieme a Giulia Cova siete tra le mie preferite veramente, per cui se vi interessa sapere che cosa mi è arrivato da amazon scoprirlo comunque insieme a me perché ho aperto ma non so ancora dentro che cosa c'è non vi rimane che guardare questo video io ovviamente come al solito vi aspetto dopo la sigla ok bella raga, questo sarà solo uno spacchettamento anche perché come vedrete sono sul tavolo di casa stavo cianfrando in questo momento e quindi insomma sarà solo spacchettamento il pacchetto è gigante, l'ho già tagliato e praticamente dentro, vediamoli insieme ok allora dentro c'è quello che pensavo, ovvero la valigetta quella apposta per contenere i cucchi dovrebbe essere una valigetta professionale, l'ho presa da amazon perché l'ho trovata a 32 euro mentre invece di solito tipo da sefora così si trova a 100 per cui voi sapete benissimo che a me piace risparmiare soprattutto quando acquisto online e se non lo sapete andatevi a vedere il mio video su come risparmiare acquistando online e quindi niente insomma ho acquistato perché l'ho trovata così qua c'è altra roba ma io non pensavo che mi arrivasse tutto insieme così allora ho preso dai buttiamo lì poi lo raccogliamo ho preso queste che sono oh guardate le belle sono le maschere coreane della Tony Moly e praticamente le vendevano in questi pacchi in queste buste che insomma sono maschere assortite e così puoi scegliere insomma quale ti piace di più adesso ve le faccio vedere qua abbiamo della linea I'm Real la Lemon Mask illuminante sempre della linea I'm Real l'Aloe Mask Monstering per cui idratante Tomato Mask sempre della linea I'm Real della Tony Moly Radiance non vedo l'ora di provarle queste qua sempre dell'Am Real quella all'Avocado Nutrition quella purificante al Mac Geoli che non so cosa sia penso sia un latte di qualcosa quella al tè verde al titri insomma all'albero del tè levigante quella purificante alle alghe quella al vino rosso per i pori quella ai broccoli vitalizzante quella al riso clear significa pulire quindi purificante e quella al melograno elasticizzante madonna quante maschere qua c'ho veramente se arriviamo a 50 like dai ve la metto facile faccio un video su tutte le mie maschere così vi parlo di queste e anche di tutte le altre che ho e le vediamo insieme poi qua sotto c'è questa che ovviamente la Lineage Water Sleeping Mask allora questa qua che cos'è? è una maschera nanna è una maschera da sonno allora queste cose le ho viste come vi dicevo nell'intro sul canale di Silvia all'angolo di Seidori ma anche sul suo blog scritto dove spiega appunto tutti questi prodotti lei ha fatto un video che è veramente bellissimo sulla skin care coreana io cosa ho fatto? ho preso appunti ve lo giuro l'ho fatto con un quaderno glielo ho anche scritto non so spero che lei abbia letto il feedback che le ho dato perché secondo me per lei che si è fatta una sbatta allucinante di studiarsi tutti quei tomi di roba e di scrivere un articolo così dettagliato potrebbe essere solo che piacevole io cosa ho fatto? ho preso appunti mi sono appiccicata la mia bella pagina in bella vista e man mano ho iniziato a fare appunto la skin care coreana da quando ho iniziato devo dire la verità i brufoli ci sono ancora perché mi vengono non perché rimangono però le croste quelle che avevo proprio sui brufoli che erano quelle più fastidiose per truccarmi perché praticamente non riuscivo a coprirle nemmeno col fondotinta sono andate completamente via e quindi ho preso dei prodotti appunto da inserire in questa skin care sia giornaliera che serale prima di dormire e questo è un prodotto particolare che va messo sul viso la sera e va sciacquato la mattina è proprio una maschera da nanna da sonno non vedo l'ora di provarla già stasera la proverò raga sono tutta storta ma solo perché se no non riesco ad aprire le cose e veniamo al pacco enorme non c'è nient'altro però allora tiriamo fuori questo pacco enorme così poi magari riesco allora non è pesantissimo però appunto secondo me questo è il come si chiama la valigetta appunto quella da permettere il make up ok non guardate come taglio le scatole perché sono incapace e rischio sempre di farmi un male per me allora allora questa la desideravo da tempo veramente immemorabile ero rimasta malissimo perché una volta l'hanno messa in svendita da sephora io inoltre avevo anche il 20% di sconto da sephora sempre quindi avrei potuto prenderla col prezzo in svendita e col 20% di sconto e non l'ho presa perché ovviamente è stata una questione proprio di pochi minuti e quindi ero rimasta malissimo però ve la faccio vedere è fantastica tra tutto per me che quando giro devo sempre portarmi dietro i trucchi la spazzola il phon le cose per insomma oh raga sono così contenta cioè voi non potete capire apriamola e speriamo che sia bella anche dentro tanto quanto l'è fuori è bellissimo no raga se siete appassionate di make up oppure ci lavorate io spesso ci lavoro nel senso che trucco anche altre persone ovviamente ripeto non sono una make up artist per cui faccio solo lavori un pochettino più easy dove magari accompagno Mr. X per cui sono lavori veramente easy però veramente non ha tanti cassettini cioè me l'aspettavo con un po' più di cassettini e soprattutto con un pochettino più i cassettini un pochettino più grandi qua ci stanno giusto gli smalti ecco sono così però va bene lo stesso nel senso che comunque sotto la parte del contenitore è talmente grande che si possono mettere ulteriori contenitori quindi per che ne so matite rossetti e quant'altro ragazzi questo unboxing è finito perché praticamente non c'è più niente io vi ringrazio di essere state con me anche per questo video sto veramente morendo di caldo sto morendo tantissimo di caldo non vedo l'ora di accendere il ventilatore perché l'aria condizionata si è rotta e vi metto tutti i link nell'info box ma soprattutto vi consiglio veramente di andare a vedere il video di Silvia sulla skin care coreana perché è fantastico e se volete invece che vi faccia un video su quelle che sono tutte le mie maschere ho queste ho quelle che faccio di solito e ho anche quelle che ho portato dalla Thailandia arriviamo a 50 likes e vi faccio il video insomma con tutte le maschere qualcuna l'avrò già provata qualcun'altra la dovrò ancora provare ma in ogni caso per queste cose mi sento anche abbastanza preparata ultimamente quindi tanti bei likes iscrivetevi al canale perché ogni giorno c'è un contenuto nuovo un video nuovo qua su Eller Channel e vi ringrazio veramente tantissimo di stare sempre con me di guardare questi miei video vi mando il solito bacio e tantissimo ma tantissimo amore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti